Il direttore generale della BCC di Aquara, Antonio Marino, pubblica una lettera di un cliente della banca sulle nuove norme europee. Gentilissimo direttore, con contrarietà leggo la notizia dell'entrata in vigore delle nuove regole europee sui depositi bancari. Da piccolo imprenditore che in questo momento storico devastante ha dovuto far fronte alle innumerevoli difficoltà per onorare gli appuntamenti fiscali e tutelare i propri dipendenti e collaboratori sono indignato. Il rapporto che ha unito le banche del territorio con le imprese del territorio con queste ultime regole, poste in essere dall'Eba, è ormai compromesso. Queste regole non sono accettabili per noi piccoli imprenditori locali che hanno deciso di restare e quindi creduto nel proprio territorio, affiancati da piccole banche come la BCC Aquara. Non è equanime questo destino. Direttore, non si può morire senza lottare ed è per questo che mi appello a lei per unire le forze e combattere per non far morire il nostro territorio. Le chiedo di riflettere sulla opportunità di compiere atti o assumere iniziative volte a portare a conoscenza degli utenti le difficoltà che tali nuove disposizioni determineranno. Mi appello alla sua nota e riconosciuta sensibilità affinché anche nell'esercizio del ruolo che le compete possa indicare un percorso critica a quanto deciso a nostro detrimento. Mi consenta infine sommessamente di suggerirle di invitare tutti imprenditori e non utilizzando canali di comunicazione della BCC Aquara ad utilizzare i social e qualsiasi canale online anche per questa giusta causa, anche considerando che soprattutto a medio e lungo termine porterà l'ennesimo tracollo dell'economia locale. Infine, attraverso la sua comprovata lungimiranza, si avvii allora una petizione online per raggiungere e dar voce a tutti, con l'augurio di risvegliarsi un giorno e scoprire che tutto questo sia stato solo un brutto sogno. Resto a disposizione per qualsiasi iniziativa che salvi il nostro amato territorio e la sua economia, un piccolo imprenditore che crede e crederà sempre nel proprio territorio.